Lenore Candle è stata una poetessa americana che ha vissuto a San Francisco negli anni Sessanta. Faceva parte di un gruppo chiamato i diggers, ovvero gli scavatori, un gruppo tra l'anarchico Elipi, che faceva molte cose, tra cui teatro di strada, improvvisazioni sempre per strada, dare da mangiare alle persone ogni giorno in un parco. Lei era un po' un leader di questo movimento e nello stesso tempo una poetessa. Secondo me Lenore Candle è stata una grandissima poetessa, molto sottovalutata e ormai quasi dimenticata, almeno qui in Occidente. Lei scrisse un libro di poesie erotiche relative ai suoi rapporti sessuali col suo compagno, chiamato The Love Book, che fece molto scandalo, subì anche un processo, ma non fu processata lei, furono processate le librerie che lo vendevano, i librai che l'avevano venduto. Fu condannato e riabilitato solo alcuni anni fa. Questo naturalmente, come era capitato anche ad Allen Gisberg, diede a lei una certa fama nell'immediato e veniva chiamata per The Readings un po' dappertutto. Io ho scoperto per caso questa poetessa in internet alcuni anni fa e mi sono innamorata di queste sue poesie. Lei è morta nel 2009. Allora, quando agiva a San Francisco insieme a questo suo compagno Bill Fritz, era di una bellezza carismatica. Questo anche lui, anche perché non corrispondevano a quello che nell'immanicinario sono gli più americani. Non erano biondi, non erano con gli occhi azzurri, bensì tutti e due neri, neri di occhi e neri di capelli. E si innamorarono follemente l'uno dell'altra. Lui abbandonò moglie e figli e si mise con lei. Avevano entrambi 35 anni allora, quindi un'età molto diversa dai ragazzi che stavano accorrendo a San Francisco in quegli anni, che scappavano di casa per ricarsi appunto in questa città a fare le cose più disparate, vivere nelle comuni, ubriacarsi, drogarsi. Molte di loro però facevano anche arte, poesia, letteratura. E inventarono anche un tipo di disegno e di grafica che è in voga ancora oggi. Ancora oggi stilisti, grafici, copiano da, o si ispirano agli esempi degli anni Sessanta. Lenore è una mia passione, io sono appassionata di questa poetessa perché poi non scrisse solo The Love Book ma anche molti altri libri più di argomento sociale diciamo. Lei fece i più strani mestieri, le più strani anche attività. Una di queste era la danza del ventre a cui si dedicava insieme ad altre amiche di San Francisco. Ci sono molte immagini su internet che ritraggono sia lei che loro e con questo Bill che era un Hells Angels scorrazzava per le strade della California e io mi sono interrogata perché una persona così spirituale come Eleanor si fosse messo con un rappresentante di una banda già allora abbastanza violenta che però non era emarginata dagli hippie, dai gruppi hippie. A quel tempo tutti accettavano tutti e mi sono interrogata appunto del perché lei si fosse messo con un tipo così e la mia risposta è stata molto semplicemente che lei si era innamorata di lui e quindi lo seguì in questa sua scelta di entrare negli Hells Angels di San Francisco. Nel frattempo lei continuò a scrivere poesie, le scrisse per tutto il resto della sua vita anche dopo un terribile incidente di moto che i due ebbero e che la lasciarono invalida per il resto della sua vita. Questo non le impedì di continuare a scrivere poesie per tutto il resto della sua vita. Nel 2012 queste sue poesie sia note che non note sono state pubblicate da una casa editrice e quindi le possiamo leggere. Io ho scritto un romanzo su questa Lenore Candle che si intitola come sono eccitanti gli uomini che ci spezzano il cuore perché lei non aveva paura di soffrire per amore perché era forte perché era una donna dominatrice in un certo senso una donna alfa quindi se soffriva lo faceva consapevolmente. Ecco tutto. Ecco.